L'uovo, l'uovo, e quelli giù a pregare, erisate, 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 perché questo è un lavoro duro ma fa anche molto ridere, ovviamente, ecco però questa deve essere la religione, non è che dobbiamo aprire un dibattito su tutto, se no qua è finita. Ma scusi padre, voi comunque vi attenete alle parole del Vangelo, per cui... E parole di chi? Ma che stai a scherzare? Ma te non sei il lavoro che c'è dietro lì, il lavoro di secoli, ma tu lo sai i Vangeli veri quanti erano? Sedici, dentro c'è stavano le cose più assurde su quello come è fatto e detto Gesù Cristo da mettere le mani nei capelli, noi se siamo capati meno peggio, quelli che più ci potono far comodo a noi, Ma pure su quelli non sai quanto ci siamo lavorato, i secoli a mettere, a toglie, questo gli ho famo di, questo è meglio che noi gli ho famo di, aggiungi queste due righe, dicevano delle cose che non stavano in cielo né in terra, c'ha un fratello, c'ha una sorella, si sposava, piava al treno, andava in vacanza, uuuh! Cioè, lei sta dicendo che i Vangeli non sono i documenti originali ma sono stati manipolati? Ma che stai a scherzare? Matteo sai a Madonna di Fatima qual è l'ultima frase che ha detta la pastorella? L'ultima frase è quella vera? No! Vamma a comprare i sigaretti! Ma a te pare che ce la lasciavamo? Ma ci dovreste ringraziare? E ci dovreste ringraziare? Mi scusi, padre, ma adesso sono un po' confusa. Sì, ma ciò cose complicate. Almeno una cosa abbiamo semplificata. Abbiamo tolto il limbo. Mo c'è inferno, paradiso e basta. Sto limbo pareva lambedusa con ste pover anime in attesa di venire spedite da qua e da là. Oh, già sta cosa delle tre persone non ci si è mai capito niente. Il figlio, il padre, lo spirito sono uno ma sono tre. Ma tu lo sai gli eretici che abbiamo dovuto massacrare nei primi secoli per tenere fermo sto punto. Quelli morivano dicendo guardate non è cattiveria e che proprio non ci avemmo capito niente. Però la fede è proprio questo. Se ti metti a fare i burci qua è finita. È una finzione. Ma quando vedi Harry Potter, no? Che io so paghito di Harry Potter. Ma che ti metti a dire la bacchetta? Com'è possibile? Mo perché il gufo parla? Ma te vedi il film e te stai ci. È una finzione. Viva Dio sto spettacolo va avanti da duemila anni. Oh ma manco chorus line a bride. Ma scusi, ma allora qual è la verità? Ma come qual è la verità? Ma che pensi che noi non li leggiamo i giornali? Ma che veniamo giù dalla montagna del sapone? Ma che non lo sappiamo noi l'universo vero com'è fatto? La teoria attuale che poi è una rilaborazione della teoria delle stringhe si chiama M Theory e dice che ci stanno 11 dimensioni e infiniti universi paralleli. Ah, e lei crede a questo? Io credo? No, questa è la realtà, non è che ci credo io. Ci stanno le equazioni, poi andate a leggere. Ma lo sai che se viaggi in un certo modo attorno a un buco nero rotante supermassivo può andare avanti e indietro nel tempo a piacere? Ma di che stiamo a parlare qua? Quindi scusi, non ho capito, infiniti universi paralleli? Ma quindi lei è per la scienza? Ma Dio, c'è o non c'è? Non capisco. Infiniti universi paralleli, Pupè. Dio può esiste, non esiste, staccene 4, 16, Dunedic, tre giapponesi che ha barba e senza barba. È tutto superato, che la palla di vetro ce ne dovete più. Per fortuna che la gente di queste cose non ci capisce, non gliene frega niente. Se no, noi dovremmo pure dire che non è vero, perché santo qualche cosa gli ha parlato l'angelo, che gli ha rivelato che queste equazioni sono delle grandissime fregnacce. altro che Galileo, almeno quello era uno, facevi stare zitto. Questi sono migliaia, sono americani, stanno a sti centri dei scienziati sotto terra, con sti acceleratori di particelle. Vai a dir qualcosa a te, vai a dar fuoco uno per uno. Almeno una volta il Giordano Bruno piavano subito, una bella fiamma alta, meglio dalla carbonella. Meglio dalla carbonella. Vabbè, sono sconvolta. E fuma di meno. Sono sconvolta. Lei praticamente mi sta dicendo che neanche lei crede. No, ma ancora questo crede, ma che c'entra? Quello è il lavoro. Un conto è il lavoro. A me mi interessa soltanto ogni tanto per la curiosità mia di sapere come è fatto l'universo quello vero. Anche perché noi poracci per tutto il giorno stiamo in un mondo di fantasia. Ma pure te ogni tanto dovrai staccare o te porti il lavoro pure a casa, scusa? Senta, comunque, a prescindere dalla dottrina su cui uno può anche avere dei dubbi. Uh! Ecco, sì. Sì, però, l'idea di Dio è ancora molto forte, cioè molte persone comunque credono in qualcosa semplicemente perché dicono che tutto è troppo perfetto, non può essersi creato da solo. Brava, cioè, fammi capire. Tu non riesci a credere che tutto si può essere creato da solo perché è troppo perfetto? Allora te inventi uno che non solo si è creato da solo lui, ma pure hai creato tutto il resto. Ma allora te fai proprio complicare la vita e te fai complicare la vita. Niente, stiamo al medioevo qua. Questa è la verità, stiamo al medioevo. Ma, scusi, ma allora qual è il senso della vita? Qual è il fine della vita? Amica mia, impara questa filastrocca che noi ce la insegnano al primo anno di seminario. Il senso della vita è la vita. E il fine della vita è la fine. Buonasera. Buonasera. Niente, stiamo al medioevo qua. C'ha ragione mio figlio. C'ha ragione mio figlio.